Ciao e benvenuti! Finalmente, dico finalmente perché io quando faccio qualche video di disegno sono contentissima, perché io adoro disegnare, a un nuovo video di disegno e questo vuole essere un video in cui vi voglio far vedere una tecnica, non so, un modo comunque di colorare, di sfumare i vostri disegni quando, tipo, state utilizzando, volete utilizzare i Copic Markers, ma non avete la carta adatta per sfumarli e volete comunque creare un effetto particolare, tipo anche di contorni non troppo nitidi, io infatti l'ho, diciamo, inventato, per così dire, andando quindi a colorare degli animali, quindi per fare, diciamo, l'effetto pelo, perché quindi gli animali non hanno proprio un contorno ben definito, sono più carini se sono un po', insomma, no? Senza un contorno fisso e... vabbè, avete capito? Quindi io una sera mi sono messa lì solo, semplicemente a colorare così, per passare il tempo e mi è venuto in mente di utilizzare questa cosa, questa tecnica. Quindi per realizzare il vostro disegno particolare, vi servono i Copic Markers o comunque dei Markers per fare comunque il colore base, poi vi serviranno le penne colorate, io qui ho quelle che uso normalmente, che sono queste un po' più famose, credo, le Stabilo Boss, insomma, queste colorate. Poi vi serviranno penne in gel, se le avete di diversi colori, per creare magari dei punti luce, ma se no va bene semplicemente anche la classica penna gel bianca, questa dovete averla per forza, perché io, da che l'ho scoperta, praticamente la utilizzo in ogni disegno, cioè la penna gel bianca è indispensabile, e poi vi servirà qualche pastello, se volete insomma, diciamo, intensificare certi punti, certe sfumature, quindi vi serviranno dei pastelli normali. E basta, quindi è molto molto semplice, però l'effetto è molto molto carino, quindi io adesso vi faccio vedere i due disegni che ho fatto io con questa tecnica, e poi vi faccio vedere, ma è veramente semplicissima, però è anche divertente da fare, è comunque una cosa un po' particolare, e spero vi piaccia, ciao! Grazie a tutti! E' veramente molto semplice, una volta che abbiamo colorato con i nostri colori base tutto il disegno, andiamo a prendere due o tre colori che più o meno vanno bene con il nostro colore base, e iniziamo a creare tutti questi puntini con le penne colorate, per dare profondità in alcuni punti, quindi intensifichiamo magari il colore quello più scuro in certi punti, poi magari lo sfumiamo un pochino di più con quello più chiaro, e creiamo quindi questi bordi non ben definiti, e quindi niente, si prosegue così, fino alla fine. Sì, ci vuole un pochino di pazienza, però è una tecnica abbastanza rapida, e comunque poi magari man mano che va avanti il disegno, lo vedete un po' da voi come fare, come vi piace più l'effetto, se è più o meno sfumato, o se sfumare solamente alcuni punti, io ho voluto fare questa volpe in una tasca, diciamo, perché mi piaceva creare anche l'effetto, questo effetto un po' sfumato nel tessuto della tasca, e quindi niente, io per esempio qui per il colore un po' rossiccio della volpe, utilizzo un marrone scuro, un marrone un po' più chiaro, e un arancio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.